cappellino cecoslovacco m60 ex dotazione esercito cecoslovacco fine anni 80 nuovo visiera rigida quattro fori di areazione frontali la parte superiore sganciabile sbottonabile e reversibile nella parte inferiore si riabbottona tramite le asole questo per i rigidi e freddi climi dell'est europa questo cappellino risulta modello invernale in quanto tessuto è molto spesso internamente foderato una parte intorno la testa spesso cotone assorbi sudore morbido all'interno troviamo gli anni di produzione le caratteristiche spade incrociate cecoslovacche che indicano l'esercito l'esercito ceco e il produttore molto resistente solido e robusto risulta anche ottimamente impermeabilizzato non una goccia penetra molto semplice rudimentale e pratico costruzione molto tradizionale ottime cuciture visiera corta per poter sparare